Perfetto, adesso possiamo partire. Allora ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti alla rubrica sulla stagionalità, ok? La rubrica sulla stagionalità che ormai è un appuntamento che è quasi da un anno che stiamo andando avanti. Eh sì 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 sì, assolutamente. Chi è che ci sta seguendo da un anno o da più o meno? Chi è che è? Ok, molto bene. Allora, intanto vi metto qui il link di Davide Mantovani per Avatrade, qualcuno me lo sta chiedendo, così almeno avete direttamente il tutto. Io da oggi, porca miseria, da ieri, oggi, va bene, va bene lo stesso, bravo. Allora, andiamo a vedere prima come stanno andando le stagionalità viste il mese scorso, così almeno poi partiamo con quelle nuove. Allora, vi ricordo che come stagionalità per le materie prime sui CFD, visto che è questa la rubrica, visto l'indirizzo di Davide, così almeno è tutto. Per lavorare appunto con le stagionalità sulle materie prime sui CFD, quindi praticamente stiamo lavorando solo su quelli, utilizziamo il software che si chiama Seasonalgo, che penso sia molto famoso che conoscete, e vi dà l'opportunità di avere le finestre stagionali, quindi, delle materie prime dei maggiori indici, non ha azioni e non ha forex, quelle che abbiamo visto sostanzialmente l'altro giorno su Seasonax. Quindi sono più software che utilizziamo per andare a fare questo. Quindi, per far capire, ci sono persone che ci seguono da poco, per far capire la nostra filosofia di investimento, la filosofia di investimento di questa rubrica è quella di cercare un vantaggio statistico nell'andare rialzisti o ribassisti in un determinato periodo di tempo. Nello specifico il VIX, parliamo degli indici di volatilità, tra il 14, tra il primo di aprile e il 29 di aprile aveva una stagionalità ribassista, come vedete, perché c'è la finestra di colore rosso, inizia di vendere e poi di acquistare, e aveva, lo vediamo qui nella tabella, una probabilità del 100% negli anni scorsi ha avuto. E anche quest'anno, come vedete, è sceso perfettamente andando dalla parte giusta. Quindi la prima stagionalità, vista qualche anno, qualche mese, il mese scorso, quindi a fine di marzo, ha avuto un ottimo profitto, come vedete. Ok? Quindi questo è facile per tutti. Poi avevamo la stagionalità sul latte che non abbiamo guardato, perché Ava non ha il latte, ma noi un occhio ce lo diamo sempre, rialzista e vedete che ha perfettamente rispettato la stagionalità. Poi avevamo una stagionalità su S&P 500 e anche qui, come vedete, è andata bene. Avevamo rialzisti in questa zona e abbiamo chiuso di là. Ricordatevi che il fatto che ci sia una stagionalità rialzista non vuol dire comprare il giorno iniziale e vendere il giorno finale, ma vuol dire che in questo asso di tempo, cioè dal 4 al 29 di aprile, cercherò segnali rialzisti su S&P 500. Ok? Questo è il tutto. Eh, non ti stai mangiando le mani? Eh, lo so, però, ma c'eri il mese scorso quando abbiamo fatto le stagionalità? C'eri? 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 Caro Mario, hai visto? Eh, bravo. Poi trovate tutti i video caricati su YouTube e quindi, eh, mi spiace per te, purtroppo è così. Poi avevamo invece HL and Hoax, che non abbiamo fatto, perché comunque Ava non ce li ha, invece KE non l'abbiamo, lo facciamo KC noi, che è questo, che è sostanzialmente il caffè. Questo è uno invece dei titoli che non ha rispettato la stagionalità, ma nonostante non abbia rispettato la stagionalità, ci sono su MT5 e allora dalla prossima volta li faremo. Quando li troveremo nuovi allora Marco? Ah, hai già aperto MT5 Marco, eh, bravo, bravo. Allora, dicevo, eh, questo è molto interessante perché la stagionalità, come vedete, non è partita, cioè è andata esattamente contraria, ma visto che noi utilizziamo le Aikenashi per entrare nelle stagionalità, vedrete immediatamente, se mettete su le Aikenashi sul caffè, che nell'area stagionale non ha mai dato un Aikenashi ribassista. E dovrebbe, almeno adesso andiamo a vederla, va, così almeno ci togliamo i dubbi, magari la data l'ha in quello storno lì, dobbiamo guardarla meglio, aspetta. Caffè, andiamo a cercare, adesso vi carico tutto, eh. Vi ricordo che questo webinar è sponsorizzato da Avatrade, quindi noi utilizziamo per tutti i riferimenti sempre i grafici di Avatrade. Allora, dicevo, dal giorno 9 di aprile al 23 di maggio, guardate qua, dal il 9 di aprile, vi metto una bella riga su, allora, dov'è il 9 di aprile? Dovevamo aspettare la prima Aikenashi rossa per entrare in posizione. Vedete che nonostante la stagionalità sia andata contro, non utilizzando solo le stagionalità come le capre tibetane, ma utilizzando invece un'intelligenza nostra che dice, aspettiamo, dal momento in cui c'è la stagionalità, la prima Aikenashi rossa è il momento giusto, dopo una, se almeno una verde. Quindi anche qui, facciamo fin di aver guardato qui, non sarei comunque entrato, perché non c'è stata una serie di verdi dopo una rossa. Quindi, tecnicamente, potrei entrare ancora adesso appena da una Aikenashi rossa, ok? Quindi la regola dice di entrare nella direzione della stagionalità quando ho un motivo tecnico. Quindi, se noi abbiamo tutti i prodotti esistenti al mondo, li selezioniamo prendendo solo quelli giusti, cioè solo quelli che si sonalgo ci dice, guardate che c'è stagionalità su questi, non su altri, già andiamo meglio, perché abbiamo una direzione. Se in più ci aggiungiamo anche un indicatore tecnico che conferma la direzione, capite bene che la statistica va dalla mia parte, giusto? C'è la probabilità di riuscita. Poi, ragazzi, la sfiga e il culo non vengono mai, c'è una gran botta di culo, funziona sempre meglio di qualsiasi altra cosa, ma, come vi ho detto, noi dobbiamo sempre e comunque metterci nella condizione di essere, di avere dalla nostra parte il, come si dice, di avere sempre dalla nostra parte tutto quello che deriva dal punto di vista della statistica. Cioè, più cose posso fare per portare la probabilità di riuscita di un'operazione alla mia parte, più io le devo fare. La stagionalità è uno di quelle. Ad aprire le materie prime sono salite quasi tutte, ci possiamo aspettare una bella inversione? E boh, Marco, non lo so, vedremo le stagionalità. Poi, altra stagionalità che abbiamo visto era lo zucchero, ma anche qui, come vedete, nonostante sia salito tutto, io vado a prendere lo zucchero e nel periodo di stagionalità ha dato la Ikenashi oggi, che è l'ultimo giorno della stagionalità. Quindi è vero che è tutto, ma non sarei mai entrato nell'operazione in questo mese. È chiaro? Quindi è così che si guardano queste stagionalità, lo spiego per i nuovi, così poi le vedremo. Poi invece avevamo HG, che è il Cooper. Invece qui è diversa la situazione. Andiamo a vedere il Cooper. Eccolo lì. Vedete? Vediamo quando era iniziata la stagionalità. è data il 14. Andiamo a vedere dal 14, quindi 9, 13, 14. Vedete anche qui non abbiamo avuto nessuna candela rossa e anche qui il mercato è salito, ma noi non siamo entrati. Le stagionalità, ripeto, non hanno sempre ragione. Avessero sempre ragione, ragazzi, saremmo i trader migliori del mondo. Le stagionalità hanno una direzione. Se poi non riusciamo a portarla avanti, vuol dire che quel mese non guadagneremo su questo prodotto e guadagneremo su un altro. Che problema c'è? Altra operazione. Segnatevelo il Nasdaq. A stagionalità è rimasto uguale al valore più o meno degli ingressi e sta salendo e Saliraf dovrebbe salire fino all'8 giugno, agosto. Quindi se guardiamo il Nasdaq sulla rottura dei massimi, per esempio, si potrebbe entrare, come si chiama, US, come è che li hanno chiamati? Madonna, sai che non mi viene ancora, US Tech, ma andate a credere. Eccolo qui, per esempio, vedete, il massimo in questo periodo è stato qua, addirittura sulla giornata di oggi, a 14.060. Alla rottura dei 14.060 si potrebbe entrare nell'operazione, perché come vedete c'è stagionalità ancora per un bel po' di mesi, oppure aspettare che faccia, come vedete, sia la riga blu, che è la riga che comprende gli ultimi 15 anni e quella rossa che comprende gli ultimi 5 anni, queste due righe potrebbero, in maniera molto interessante, farci dire come potrebbe andare la previsione ed entrambe stornano un po' prima della ripartenza. Quindi potrei mettere un bel ordine buy limit intorno ai 13.000, magari un migliaio di punti sotto, e potrebbe, se li farà, vedremo, 13.000 è un po' tanto, però magari su un rimbalzo sulla gold line a 13.700 potremmo magari entrare nell'operazione. Sto dando delle idee operative, poi ognuno con le strategie che conosce le può fare. Io quello che voglio darvi questa sera, ovviamente, è la direzionalità con queste stagionalità. Poi avevamo invece il platino, che invece è rimasto abbastanza fermo, probabilmente ha dato una Ekenashi a breve, vediamo, il platino, eccolo qui, ha dato una Ekenashi rossa proprio ieri, vedete? Dall'inizio della stagionalità che era praticamente qualche giorno fa il 16, ha dato una bella Ekenashi ieri e saremmo potuti entrare sul platino direttamente ieri. Chi non l'ha fatto potrebbe entrare ancora oggi, se qualcuno volesse, o sul prossimo segnale ribassista, però l'operazione, come vedete, è questa. Andiamo avanti, vediamo l'ultimo, che era il Canola, che non c'è su Ava, ma è interessante sul fatto che può comunque salire in maniera intelligente, vedete qua, e anche con l'operazione. Ok, mese scorso fatto, andiamo a vedere questo mese, perché non interessano quelli del mese prossimo. Cioè, sono tutti capaci di fare i trader con i conti degli altri, no? Guardare le stagionalità passate e dire, oh, come eravamo stati belli. E che cazzo? Noi vogliamo invece guardare le prossime stagionalità, giusto? Che ci frega se quelle del mese scorso sono andate bene, cioè ci interessa perché il nostro conto è salito. Chi le ha fatte quelle del mese scorso? Mi dite qualcuno che ha fatto le stagionalità dello scorso mese? O alcune, o tutte, qualcuna? Dai, qualcuno che è stato più operativo degli altri, perché qui abbiamo delle ottime operazioni. Sugar, ok, poi? Tipo il VIX su Ava, che è piccolino, non l'ha fatto nessuno? Dai, non fate i babbalozzi che venite qua a seguito del coso e poi... Ah, ok, Valeria, ok. È andata bene con SB, ok, Francesco, bravo. Va bene. A me piace quando poi mi dite il mese... Siccome è una rubrica gratuita, non devo vendervi niente. Quindi, se il mese dopo mi dite, guardo, ho guadagnato con la rubrica delle stagionalità, sono contentissimo perché abbiamo fatto un lavoro che è servito a tutti, no? Allora, andiamo a vedere le prossime. Prossima stagionalità interessante. H.E. Land Hooks. Abbiamo appena detto che non c'è su Ava MT4, ma c'è su Ava MT5. Quindi, attenzione, il consiglio che vi do è scaricate anche MT5 perché probabilmente a breve potremo fare delle cose anche molto interessanti. Quindi scaricate sul sito www.avatrade.me.it e trovate e potete scaricare la versione MT5 gratuitamente, vi registrate, ecco il conto demo, così proviamo a usarla assieme. Stiamo portando delle cose abbastanza carine con voi. Quindi, stagionalità che inizia il 5 maggio e finisce il 9 di febbra... il 9 di... il 2 di settembre, quindi una società molto lunga. Abbiamo tempo di far muovere il titolo. Il consiglio che vi do qui è prendete una strategia che conoscete, che vi piace, una di quelle... oppure lei che nasce, come faccio io, come faccio io, come faccio io e è entrata nell'operazione nel momento in cui dà il tutto. Ma al posto di usare i cvd, si possono fare posizioni verticale con azioni su IB? Mario, certo, noi nella sala che facciamo dopo per chi ha fatto il corso, usiamo solo il conto di Interactive Brokers per fare una marea di queste cose. ok? Quindi noi lo facciamo assolutamente. Poi, ripeto, io do la direzionalità, do la strategia, do la direzionalità e un consiglio operativo, quindi tu potresti fare un vertical spread quando hai la prima e che nasci rossa per dire entry short. Poi, come entry short? secondo il cfd, il titolo, qualsiasi cosa, decidi come... quello che sai fare, poi ovviamente è fondamentale quello. Anche uno cosa sa fare e che cultura ha del trading. Comunque sì, corretto. Poi, altro titolo, ZO, gli Oats che non c'è su Ava, quindi non lo faccio, ma ci sarebbe una stagionalità rialzista tra il 5 di maggio e il 19 di giugno. Invece, interessante, il milk non c'è, neanche qui stiamo già guadagnando col milk, ma non lo possiamo fare, che Ava non ce l'ha, anzi, ditemi voi, ce l'ha Ava il milk? Su MT5 che io non l'ho ancora, non ce l'ho qui aperto, quindi non riesco a vederlo, non ce l'ha. Invece, questo è fighissimo, ragazzi, questo è Natural Gas. Come vedete, la società inizia il 10 di maggio. Io comincerei a guardare il DAL 5-6 di maggio, la prossima settimana, e sulla prima Ikenashi ribassista, andrei short sul Natural Gas. Natural Gas. Vedete, è tutto verde, aspettiamo solo, questo praticamente sto caricando, immaginatevi, la pistola è caricata, ha una stagionalità bellissima ribassista sul Natural Gas che durerà fino al 2 di agosto e quindi potrebbe essere un momento molto interessante per andare a fare una bella operazione. E vi dico già di mettere un bel take profit a 2,47. Ok? Ora vale intorno ai 2,90. Se arrivasse fino a 3 sarebbe perfetto, su Ava 2,47 sarebbe un ottimo punto. Ok? Certo che è buono anche per gli spread, ma dopo ti faccio vedere. Il Platino invece continua la stagionalità ribassista, ok? Ribassista, dove abbiamo una vendita quindi 18-28 maggio-23 giugno, quindi assolutamente il Platino ribassista, però parte il 18 di maggio, quindi attendiamo. Poi abbiamo invece questo US bond, il T-Notes, sostanzialmente il bond americano, a 10 anni che ha una stagionalità rialzista. E visto anche come sono scesi molto, diventa veramente molto interessante. Questo non ce l'ha MT4, ma dovrebbe avercelo MT5 su Ava, quindi avete l'opportunità di guardarlo bene. Poi continua la stagionalità sul VIX ribassista, quindi chi ce l'ha lo tenga fino addirittura al 18 di agosto. Quindi aspettiamo il 20 maggio. candela Ikenashi rossa, per chi ce l'ha lo tenga fino a maggio. Per chi invece non ce l'ha, aspetti la prima candela verde, rossa scusate, intorno al 22 di maggio e può fare l'operazione. ZC invece, il Korn, il Korn adesso dovrebbe in teoria scendere, risalire per poi andare giù ancora. Questo è come si è mosso, come vedete, negli ultimi 10-15 anni, quindi è un movimento molto simile, molto forte. Quindi bisogna aspettare perché è il 31 di maggio, ragazzi. Purtroppo è il 31 di maggio, quindi nonostante abbiate le fregole per fare questa operazione, fare questa operazione, noi dobbiamo in maniera molto, 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 molto intelligente fare questa cosa. Ok? Detto questo, quindi aspettiamo il 31 di maggio, aspettiamo Ikenashi rossa per entrare sul Korn. Ultimo, GF, il Federal Cattle, che sono le cose, quindi anche qui non ce l'hava, qui non lo vediamo, in ogni caso long su questo. Per chi mi chiede gli spread, noi abbiamo la nostra sala spread che due volte alla settimana basta andare in questa maniera, cliccare qua sul tasto 2 e vedete, per esempio, che c'è sul Natural Gas un ottimo spread ribassista su cui noi siamo già entrati, ok? Che noi siamo già entrati, ribassisti e vedete che c'è la possibilità di arrivare molto lunghi addirittura fino, qui c'è una società rialzista, fino al 9 di settembre, se riusciamo a portarla fino al 9 di settembre, vuol dire che siamo entrati a 0.3, arriveremo fino a 0, quindi 0.3 per 10.000, sono 3.000 dollari di profitto se il titolo si muove esattamente come dovrebbe essere. Questo è F contro H, noi abbiamo fatto FH di Natural Gas. Questo è molto figo, a me piace molto, questa è la mia operatività con gli spread e tutto. Va bene ragazzi, c'è qualche domanda? Quindi avete visto tutto, vi carico appena possibile. No, non si riesce ad abbinare le opzioni con lo spread perché è un contratto in acquisto, uno in vendita, quindi ognuno potrebbe avere quattro, ok? Cosa oro? Cosa vuol dire oro? Non c'è l'oro, non ha stagionalità l'oro. E neanche US dollar. Se non c'è qui, ragazzi, se non c'è qui, vuol dire che nel mese di maggio non ha stagionalità. Questo è già una ricerca. Cioè lui, il season algo, prende già tutti i titoli che esistono e mi dice se nel mese di maggio c'è una stagionalità. Se non c'è qui in mezzo, vuol dire che non c'è stagionalità. Sì, Mario, si può fare una cosa un pochino più complessa e a poco senso farlo. Abbiamo notato che non porta questo gran profitto. Quindi stellona 58, mi spiace, ma se non trovi qua in questo elenco il gold, vuol dire che non ha la stagionalità. Per andare a essere sicuri di questo, andiamo a vedere su Seasonax, che è un altro software dove invece è diverso perché chiedo io che cosa voglio. Andiamo a vederlo anche da questa parte. Oro, gold, andiamo a vedere il gold. E il mese di maggio, come vedi, non ha una stagionalità fortissima, come piace a lui. Vedi? A maggio ha una stagionalità. Se tu comprassi il primo di maggio e chiudessi l'ultimo di maggio, avresti solo il 46% di operazioni vincenti. E quindi ovviamente season algo non te lo farebbe vedere. Ok? Perché non ci sono tutti i prodotti? Per questo motivo. Ieri invece non li faccio rivedere, ho fatto vedere durante l'Ava Trading Day, nello specifico nel pomeriggio, l'ho fatto vedere, non mi ricordo più. Le stagionalità invece, i patter stagionali, sul Forex, cioè le correnze statistiche sul Forex. Quindi le avete tutte anche quelle, insieme a questo avete tutto quello che serve. Sono troppo veloce. Oh la madonna, vedete che poi te lo riguardi il video, dai. L'ho fatto vedere ieri sul Forex. Ok? Quindi ragazzi, cari ragazzi, qua avete tutto uno strumento, tutto un arsenale per poter andare a investire in maniera più intelligente o comunque con almeno un vantaggio statistico riabbassista o rialzista in funzione di cose successe nel passato che parte stagionali. L'ultima super indicatore che abbiamo su TradingView, che se io vado a prendere per esempio il Gold, vi faccio vedere, il Gold, il Gold Future, per esempio prendiamo il Continuous e vado a inserire il nostro indicatore, questo è il nostro indicatore di forecasting, praticamente vedete che questo è come ha reagito nel passato e questo è come sta reagendo, come dovrà sperando reagire nel futuro. E anche questo, ovviamente nel paese di maggio, come vedi, anche il nostro è assolutamente piatto. Da oggi fino a tutto il mese ha assolutamente stagionalità piatta. Sono tre modi completamente diversi per andare a vedere le stesse cose. Ragazzi, buona serata a tutti, vi saluto che tra cinque minuti ho la nuova, ho la sala nostra spread con tutte le azioni. A dopo, ciao ciao ciao, che facciamo anche sulle azioni in questa cosa. A dopo e vi carico appena possibile il video su YouTube. Ciao!